Dopo l'incontro dei prefetti di Perugia e Terni, la Lega Nord ufficializza i numeri sui rifugiati. In Umbria una capienza per circa 2000 rifugiati. Valerio Mancini è il consigliere regionale della Lega Nord Umbria. L'Umbria chiaramente non si sottrae, come tutte le altre regioni, alle difficoltà che questo fenomeno ovviamente provoca. Per quanto riguarda Lega Nord, il sottoscritto e il mio collega di Terni, Fiorini, abbiamo fatto una cosa che non ha mai successa in consiglio regionale. Abbiamo chiesto gentilmente, perché è un fatto di cortesia istituzionale, l'audizione dei prefetti, il dottor Gambassi e la dottoressa Di Maio, prefetta di Perugia, per conoscere in modo analitico il fenomeno dell'immigrazione. Anche nei suoi risvolti economici ne è emerso un quadro, prima in ambito sanitario, che è avvenuto sempre nella prima commissione di cui io sono membro, per quantificare l'aspetto sia monetario ma soprattutto numerale di quanti e da dove queste persone arrivano, e soprattutto l'aspetto sanitario. Ne è emersa una sostanziale emergenza, perché ovviamente queste persone vengono sottoposte a un controllo medico ovviamente accurato, ma ovviamente sono anche, considerando i stati di povertà, portatori anche di certe malattie che ormai noi consideravamo debellate. Invece il fatto, diciamo, ancora più grave dal punto di vista economico è il costo della gestione dei migrati e dei rifugiati, che praticamente si assomma complessivamente a 15 milioni di euro l'anno. Quindi una cifra importantissima di risorse cofinanziate tra il Ministero dell'Interno e i Comuni, così più o meno, lo dico a beneficio dei telespettatori, così diciamo composto, abbiamo circa 378 unità che vengono accolti nei cosiddetti SPRAR, che sono strutture diciamo più che mai per rifugiati residenti, e questa cifra viene molto finanziata dai Comuni. Ho ricordato in passato il Comune di Foligno, che per il bando 2015-2016 sta spendendo circa 80 mila euro, quindi una cifra molto importante, che si assomma ai quasi 700 del Ministero dell'Interno, quindi sono cifre che di questi tempi, se impiegati nell'aiuto ai Cassi Integrati, farebbero molto comodo.